Bene, vorrei farti vedere un sistema molto pratico per tenere sotto controllo l'igiene della mungitura. Questo è un piccolo esperimento che puoi fare nella tua stalla, dove su una tabella puoi montare tutti i filtri smontati dall'impianto. In questa stalla vedete come oggi, martedì, nella mungitura della sera del 7 giugno 2016, questo è il risultato della pulizia del filtro. Voi vedete come c'è una netta differenza tra i filtri delle mungiture delle varie giornate. E questo vi dà un indice sia della pulizia delle mammelle, sia della pulizia degli operatori. In questa stalla specifica, per migliorare l'igiene di mungitura e quindi la carica batterica e quindi le spori nel latte, quindi aumentare la qualità del latte, è stata introdotta una lavatrice e le pezze per la mungitura, che ora vi farò vedere. Questa è una lavatrice industriale che lava ad altissime temperature con dei disinfettanti e lava delle salviette in microfibra fatte apposta. La lavatrice è in grado di raggiungere alte temperature e quindi inattivare anche i patogeni più importanti. Le salviettine sono queste in microfibra e possono essere gestite dagli operatori in maniera assolutamente moltigenica. Questo è il risultato del lavaggio, una salviettina perfetta, sanitizzata.